eh già migliora già migliora far cura si si vai a curvare se vediamo rifalla che non ho non ho zoomato bene eh ma è per quello dove sbagli Walter attento Jacopo che c'è Walter che esce spostatevi Davide spostati vediamo che bello aspetta ferma ferma eh non è no no è la chiappa mi fa male la chiappa la chiappa buongiorno Grazie a tutti. Eh, sta migliorando. Io so far di meglio, però sta migliorando.